Musica Soffocamento, che cos'è? Una condizione nella quale un oggetto qualsiasi si posiziona nel tratto iniziale delle vie aeree impedendo il passaggio dell'aria all'interno dei polmoni. Può essere parziale, ovvero un po' di aria ancora passa, o può essere totale, l'aria non passa più. Qual è la sua sintomatologia? Si presenta con agitazione del soggetto, difficoltà a respirare, difficoltà a fare la tosse. Cose da non fare Non posizionare mai il paziente a terra Non cercare di estrarre il corpo esterno inserendo le mani in bocca e non dare mai da bere Cose da fare Cercare di far tossire il paziente Farlo concentrare sulla tosse E lì dove la tosse non riesce a farla, iniziare immediatamente le manovre di disostruzione Alternando le pacche dietro la schiena alla manovra di Imec Ovvero le compressioni sottodiaframmatiche E lì dove la tosse non riesce a farla, iniziare immediatamente le manovre di disostruzione